Mancano pochissime ore alla finale di Champions League, qui si incomincia davvero a crepare un'ansia incredibile Juventus-Real Madrid. Come finirà? Lo scopriremo in anticipo sul mio canale. Siamo qui, su FIFA 17, nella modalità giochiamo a c***o. Difficoltà leggenda non gestirò né la Juventus e né il Real Madrid, così vediamo il risultato esatto. Andiamo in partita. Le squadre sono scese in campo, eccolo qui, CR7. Ho notato che non c'è Izco, ma c'è Gareth Bale. Comunque, vedremo se sarà davvero così nella partita reale, anche se la percentuale è molto alta per Izco. Vediamo Benzema, nella Juventus vedo la solita formazione, con Mandzukic, Higuain, Dybala, Dani Alves. Se non vado errato, vediamo. Vediamo il modulo. Eccolo qui, Buffon. Dani Alves, vediamo un po'. Ok, c'è Pjanic, Quadrado. Dani Alves, invece, fa il terzino destro. Mentre nel Real Madrid, Morata è in panchina. Vediamo un attimo il modulo. Cristiano Ronaldo, Benzema e Gareth Bale. Ames Rodriguez dietro. Gli attaccanti a supportare l'attacco. Siamo pronti e il match è iniziato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, ragazzi, secondo voi come finirà. Lo registro due giorni prima questo video della finale e la Juventus subito in attacco con Dani Alves. Si propone, la mette in mezzo. Attenzione, Varane riesce a stoppare e il Real Madrid può rimpostare. Cristiano Ronaldo sbaglia qui. Adesso Marcello, si è fatto male. Un giocatore della Juventus si sta rialzando e Dani Alves, vediamo un attimo adesso. È tornato Quadrado in difesa. Nel frattempo Dani Alves si è ripreso. Però c'è una punizione per il Real Madrid che batte Cristiano Ronaldo dalla distanza. Attenzione, c'è questo pallone in mezzo. Colpo di testa, deviazione. Chiellini riesce a spazzare. Colpo di testa di Pjanic. Non riesce a spazzare. Alexandro e poi c'è Chedira. Siamo al quattordicesimo. Non facciamo cavolate. Attualmente si vede molto più Real Madrid. Dani Alves. Di bala il tocco. Dani Alves il numero 23. La tocca Quadrado. Quadrado per Alves. Attenzione, ancora Alves. Non perdere il pallone. Dani, Dani, Dani. Toccala. Dani fa tutto da solo. Dai, forza così. Il tocco è buono. Subito il passaggio di prima. Scarica Pjanic. Higuain. Higuain. Il tocco. Attenzione a Mandzukic. Ancora Higuain. Il primo tiro in porta è della Juventus al trentesimo. Con un grande tiro di Higuain di destro. Calcio d'angolo. Vediamo se lo batterà corto. Sì, lo batte corto. Attenzione, Dani Alves. Non la crossa. La tiene. La tocca numero 5. Attenzione. Si gira di bala. La parata di Navas. Ancora Juventus. Juve con minor possesso di palla. Ma ha già tirato due volte in porta. E sono state già due occasioni pericolosissime. Toni Kroos per Modric. Toni Kroos. Ancora lui. Palla al piede. Toni Kroos. Mamma mia. Ha saltato di netto il giocatore della Juventus. Scivolata a vuoto di Dani Alves. Attenzione a Cristiano Ronaldo. Serie di finte. Cristiano Ronaldo l'appoggia a Toni Kroos. Che può darla sulla fascia. E con cui Marcelo la mette in mezzo. E colpa di testa. Vicinissimi. Vicinissimi a gol con Benzema. Mamma mia. Illusione del gol. Nel momento dell'impatto del pallone con la testa di Benzema. Pallone fuori. Benissimo. Scambia con Alexandro. Alexandro per Chiellini. Finisce questo primo tempo. Vediamo insieme le statistiche. Ecco qui le statistiche. C'è stato un capovolgimento sul possesso di palla. La Juve finisce questo primo tempo con il 55% contro il 45%. Una Juve che ha fatto due tiri. Due in porta. E mentre il Real Madrid un solo tiro. Zero in porta. Andiamo nel secondo tempo. Secondo tempo iniziato. Eccoci qui. Vediamo se la Juventus riuscirà a sbloccare il risultato. Il Real Madrid riuscirà comunque a rispondere ai bianconeri. Adesso Toni Kroos subisce una scivolata. Il pallone rimane lì. Benissimo. La difesa della Juve sembra non rischiare tantissimo. Almeno nelle zone centrali. Perde il pallone. Cade. Si fa male. Attenzione. E nel frattempo Ames Rodriguez. Il passaggio a Cristiano Ronaldo. E tocco Ames Rodriguez. Buffon. Buffon risponde alla grandissima parata di Navas. Grande parata di Buffon anche se. C'era un giocatore della Juve a terra. Ecco il sinistro di Ames. Non angolato. Meno male. Juventus fortunata. Questa finale si deciderà per episodi. E' tornato Higuain. Eccolo qui. Nulla di grave per il Pipita. E adesso Dybala. Il tocco sulla fascia per Alexandro. Alexandro la dà. Adesso a Mandzukic. Attenzione Mandzukic. Grandissime falcate. La mette in mezzo. Il tiro. Mamma mia. Quadrado. Sembra la stessa occasione del primo tempo del Real. Solo che Benzemal lì è andato di testa. Qui Quadrado è andato di piede. Di sinistro. Piatone che esce fuori. Bonucci va a chiudere. Ancora una chiusura di Bonni. Applausi per lui. Numero 19 dice portiamola a casa. E nel frattempo esce Pjanic. Entra Claudio Marchisio. Non so se è stato un cambio azzeccatissimo. Anche perché se andiamo ai rigori serviva un giocatore come Pjanic. Nel frattempo entra Morata al posto di Benzemal. Siamo nei minuti di recupero di questo secondo tempo. Tre minuti decretati dal direttore di gara. Higuain sbaglia il passaggio. C'è Mandzukic. Il tocco. Marchisio ancora. Higuain finisce. Supplementari ragazzi. Supplementari. Queste sono le statistiche. Una Juve con tantissimo possesso di palla. Ha fatto la partita. Esce Dani Alves. Entra. Listeiner. Occhio. Perché è una sostituzione non facile da capire. Esce pure Gareth Bale. Attenzione. I rigori. Chi li batte? Benissimo. Sturaro. Palla al piede. Di bala. Il tocco. Ancora Sturaro. Marchisio. Sturaro. Di bala. Palla al piede. Eccolo qui. Serie di finte. Di bala protegge il pallone. Poi la tocca a Sturaro. La va a toccare poi a Marchisio che tira. Mamma mia. Bruttissimo. Morata. Palla al piede. Il tocco sulla fascia per Cristiano Ronaldo. Si accentra. Listeiner chiude. CR7. La Juve può ripartire. Ma non riparte in velocità. Le due squadre sono stanche. C'è qualche giocatore pieno di energia per... Perché è appena entrato. Ci sono state delle sostituzioni. Finisce questo primo tempo supplementare. 0 a 0. Secondo tempo supplementare battuto dal Real. Vedremo se si sbloccherà in questi ultimi minuti di gioco. Oppure si deciderà i calci di rigore. Sappiamo benissimo che sia la nazionale italiana che la Juventus sui calci di rigore è davvero sfortunata. Attenzione. Il Real. Toni Kroos. Isco il tiro fuori. Ci ha provato. Ci ha provato. Alexandro. Alexandro. Ragazzi. Forza. Crediamoci. Crediamoci. Anche nella partita vera. Crediamoci. Crediamoci. Perché la Juve può battere qualunque squadra. L'importante è giocare al massimo delle potenzialità. Siamo al centododicesimo quasi. Attenzione. A Madrid ci tiro fuori. Meno male. L'ha colpita male. Manzucchi c'è un po' libero. Juventus che trova un po' di spazi adesso. Attenzione. Deve toccarla subito. Lì al centro Marchisio. Salta l'avversario Marchisio. Si infila nell'area di rigore Marchisio. Navas. Navas è stato fondamentale per il Real Madrid. Ecco il tiro. Di destro Marchisio. La parata di Navas. Due minuti di recupero. Ultima occasione per il Real Madrid in contropiede. Attenzione. Prova la chiusura. Non ce la fa. Attenzione. Carvajal. Si infila. Il passaggio sulla fascia. La chiusura. Chiellini. Bonucci. Butta fuori. Finisce. Calci. Di rigore. Batte. Di bala. Il primo a battere è un giocatore della Juve. La rincorsa. Il sinistro. Mamma mia che gol. Mamma mia che gol. Il cucchiaio di Di bala. Attenzione adesso. Ronaldo contro Buffoni. Il tiro. Gol. Spiazzato ma un rigore precisissimo. Marchisio contro Navas. Marchisio rincorsa. Il tiro. E anche lui. Ha fatto un ottimo tiro. Meno potente di quello di Cristiano Ronaldo però. Modric. Tiro. Buffon. La tocca e la palla entra in porta. Incredibile. Mandzukic. Non è uno specialista. Però vediamo un po'. C'è questo tiro. Tutti sull'angolo sinistro del portiere. Sul lato sinistro del portiere. Attenzione. Isco. Numero 22. Contro Buffon. Il tiro. Ancora lì. Buffon spiazzato. Bonucci contro Navas. Bonucci. Il tiro. E... E... Sbaglia. Mamma mia. E la Juventus è sfortunata. Ai calci di rigore. Toni Kroos. Il tiro. E palo di Toni Kroos. Meno male. Meno male. Siamo sul 3 a 3. Iguain. Il tiro di Iguain. Tutti con questo semi cucchiaio. Cioè in finale nessuno farebbe quel cucchiaio. Attenzione. A questo calcio di rigore. La batte Morata contro la sua ex. Buffon. 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 La Juve vince la Champions League. Attenzione. Su FIFA 17. Ma sappiamo benissimo che il primo pronostico che ho fatto. Sul mio canale. Juventus Roma. E aveva vinto la Juventus. Mentre nella realtà la Juventus. Ha perso 3 a 1. Quindi non mi fiderei. Non mi fiderei. Comunque. Secondo FIFA 17. La Juventus vincerà la Champions League. Ai calci di rigore. Fatemi sapere se siete d'accordo con FIFA. Se siete d'accordo che la Juventus potrà vincere. E se la Juventus arriverà ai calci di rigore. Se può battere il Real Madrid. Oppure basteranno 90 minuti per il Real. Per chiudere il discorso. Ed entrare nella leggenda come unica squadra. Ad aver vinto due volte consecutive la Champions League. Fatemi sapere sotto nei commenti. Un bacione a tutti da PierreDarkKnight91. Grazie a tutti. 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 Grazie.